Mi trovo all'entrata, ad una delle entrate di Ilva Arcelor Mittal a Taranto e voglio denunciarvi una situazione gravissima, vergognosa, incredibile. Una situazione che dimostra quanto Arcelor Mittal sia una realtà assassina. Come tutti sapete un operaio è stato sottoposto a tampone ed è risultato positivo al coronavirus. Il giorno prima era caduto, stramazzato al suolo, svenuto durante la propria attività lavorativa, quindi nello stabilimento e cosa si è fatto? Udite udite, spalancate bene i padiglioni auricolari, è stato portato a casa in taxi. Non si è chiamata l'ambulanza, si è chiamato il taxi. Vi rendete conto che le procedure inerenti al coronavirus sono state completamente cancellate, abolite, bypassate? Perché questa è un'industria assassina. Come? Un operaio in pieno coronavirus cade a terra e tu che fai? Si chiama il taxi, non l'ambulanza. Ma stiamo scherzando? Qui ci sono delle responsabilità penali enormi e voglio vedere bene, voglio capire chi è il responsabile e chi deve pagare per questa scelta sciagurata. Voglio proprio capire e in questo mi auguro che la Procura della Repubblica di Taranto faccia davvero luce, chiarezza su un episodio immondo. Immaginate poi un po' il tassista arriva, ignaro di tutto questo, carica in macchina l'operaio che poi si è visto positivo al coronavirus. Immaginate i rischi che ha corso e che corre il tassista. I familiari poi del tassista perché sappiamo il contagio. Le stesse persone che poi successivamente sono entrate in quel taxi. Criminali di Arcelor Mittal, criminali assassini. Vi rendete conto di quello che avete fatto? Per voi ci vogliono queste, le manette. Manette. Punto e basta. e voglio vedere chi è. Voglio arrivare al responsabile. Non so giuridicamente chi deve rispondere. Se il caporeparto, certamente la direzione, le responsabilità dell'infermeria. Insomma è inaudito, lo ripeto, che in pieno coronavirus un operaio cade a terra e tu lo riporti a casa in taxi e non chiami l'ambulanza. Forse perché si voleva coprire il caso, forse perché non si voleva che un caso del genere, il primo caso o il secondo, come dice qualcuno, di coronavirus potesse essere scoppiato all'interno dello stabilimento. Ma vi rendete conto, cari operai, che voi siete trattati da bestie, da carne da macello, che l'azienda se ne fotte della vostra vita. E se l'azienda potesse pure occultare il vostro cadavere, lo farebbe senza mezzi termini. Io capisco che un operaio, una persona, dice quelle 1300 errotte o anche qualcosina in più o in meno vi fa comodo. Certo dovete vivere, dovete portare avanti la vostra famiglia, sostentare la vostra famiglia. Ma vi rendete conto? È in ballo la vostra vita. Qui si rischia che ci sia davvero, che davvero il Varselormittal diventi un lazzaretto. Rendetevi conto. Già ho parlato della scelta scelerata del prefetto di Taranto, il quale ha portato a 5.500 tra dipendenti diretti e dell'indotto le unità lavorative. Questa mattina, 30 marzo, addirittura al primo turno sono entrati 1.900 operai, il che significa che proporzionalmente quel limite massimo di dipendenti diretti, ossia 3.500, verrà sicuramente sforato nell'arco delle 24 ore. Tanto che se ne fotte Arselormittal non deve dare conto a nessuno, non deve dare conto alla magistratura, non deve dare conto al prefetto, non deve dare conto al governo. E legibus solutus è sciolto da ogni vincolo giuridico. Operai, riflettete bene. Qui non vogliamo assolutamente contrapporre chi difende l'ambiente e chi lavora in Ilva. Io lo dico per voi. Rendetevi conto. Pensate a quello che è successo a questo povero ragazzo, a questo povero operaio, ai rischi ai quali è stato appunto sottoposto attraverso il passaggio in taxi, ai rischi che questa scelta scelerata, ai rischi che l'intera collettività tarantina corre. Perché sapete come il virus il tassista ora giustamente avrà paura, dovrà sottoporsi a tampone e insieme a lui ovviamente chi ha avuto contatto con lui, penso ai familiari stretti e penso anche ad altre persone che hanno usato tranquillamente il taxi, che sono entrati in quel taxi sul quale c'era l'operaio appunto svenuto nello stabilimento e poi risultato positivo al coronavirus. A voi operai è stata tagliata la lingua, non potete più parlare, perché se parlate venite licenziati. Pensate un po' a quel video che è circolato relativamente alle riprese appunto di quell'operaio che era stato dimenticato appunto sulla copertura dei parchi minerari o mi è giunta notizia di un altro operaio il quale su Facebook aveva parlato di, aveva denunciato la mancanza di misure di sicurezza per il coronavirus, sospeso, sicuramente verrà licenziato anche lui. Questa è la realtà signori cari, voi non potete più parlare, ma vi rendete conto in quale stabilimento di merda lavorate? Vi rendete conto in quale stabilimento assassino lavorare? Aprite gli occhi ragazzi, apriteli. questa è Arcelor Mittal, l'industria assassina guidata da assassini. Va chiusa, va chiusa. È un appello a lei, signor sindaco. Firmi l'ordinanza, ora la deve firmare, in questo momento, perché qui davvero si sta scatenando, già si è scatenata a livello mondiale, planetario la pandemia, ma immaginate cosa accadrà qui dentro, cosa potrebbe accadere qui dentro, visti i metodi con cui si tenta di occultare qualcuno che si sente male e che purtroppo è stato ritrovato positivo al coronavirus.